Praticamente a oggi abbiamo fatto 5 allenamenti consecutivi, lavorando su tanti criteri. Un impatto positivo perché c'è disponibilità. Ho detto ai ragazzi che può capitare, perché noi poi facciamo un mestiere che tra quelli che sono stati esonerati e quelli che lo saranno dopo, è un giro. E' così, ho detto che si comincia un percorso nuovo e che bisogna anche fare qualche piccolo esame di riflessione, di coscienza su quello che non è stato fino adesso. Perché prendere coscienza dei problemi già ti porta a risolverli. Quando non acquisisci coscienza dei problemi qualche problema c'è. Questo è un gruppo che complessivamente ha qualità, però queste qualità non le ha espresse fino adesso. Non sempre è colpa dell'allenatore. Per cui il primo invito è stato a fare un grande esame da questo punto di vista e fare delle riflessioni interne, individuali. E poi dopo, dal punto di vista del gruppo, toccherà a me avere il compito e la responsabilità di guidarli. Però c'è grande disponibilità, ma guai se non fosse così. In questo periodo in cui sono rimasto fermo, di partite ne ho viste tante. Tante DC, comprese anche tante partite del Benevento. Perché poi con gli orari sfalsati, quello facevo. Vedevo partite continuamente. Ogni tanto andavo a giocare a Burraco perché ti è inallenata la mente. Sono diventato pure bravo a Burraco. Poi ripeto, fino adesso non c'è stata questa grande espressione di rendimento. E' quello che dobbiamo andare a ricercare. Cominciare a giocare da squadra, cominciare ad alzare i ritmi, cominciare ad essere un blocco unico quando difende e quando attacca. Avere grande senso di appartenenza, guai se non fosse così. E grande rispetto per questa maglia e per la comunità calcistica che noi rappresentiamo. E avere la coscienza pulita. Il nostro primo obiettivo per quelli che siamo in questo momento e per come siamo deve essere quello del 6 gennaio. dove andremo a affrontare una squadra, una pari grado, una squadra che fa il nostro campionato. E l'obiettivo è quello. Fare la prestazione e avere subito un impatto diverso. Perché ripeto, ognuno di noi poi ha criteri personali che allena per carità. Nessuno è il depositario del verbo assoluto. Però è chiaro che ci sono delle differenze. E quello che noi dobbiamo andare a cercare è questo. L'obiettivo è la partita con la Turis. Poi di volta in volta ce ne vorremmo altri. Ma quelli quotidiani sono avere un'identità forte, importante di squadra. Beh, questo è un posto a cui io sono effettivamente legato. Poi dopo quella stagione un piccolo nodo in gola, un po' anomalo, mi era rimasto. Il presidente, ma non mi piace fare il ruffiano perché non... Se dico una cosa è perché la sento interiormente, la vivo veramente dentro. Se no farei a meno di dirla. Ho un grande rispetto, è una grandissima persona. Vabbè, ma non lo dico io. E questo fatto di potergli essere utile. Lui perché è il rappresentante. E diciamo la proprietà di questa società. E indirettamente a tutto il contesto e quindi a tutta la comunità calcistica. Mi ha fatto emozionare. Ecco, quindi questo è proprio quello che in quel momento ho vissuto. Mi è stato detto una cosa, io mi sono immediatamente catapultato. Perché, voglio dire, la porta era già aperta. Non avevo bisogno di riflettere o di fare... Sono emotivamente, interiormente orientato a questo contesto. Vabbè, i motivi li sapete. Abbiamo fatto una stagione un po' particolare, ma poi bella. E perché non proseguire il lavoro?